Sono state ben ritrovati, nell'aria si respira questa quota a 77.000 iscritti su YouTube, siamo in linea, dobbiamo centrare questa missione, dobbiamo farlo assieme e mi raccomando dunque se già non l'avete fatto, iscrivete al mio canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo contenuto. Sono carico, sono molto carico perché la vigilia di Juventus-Napoli, appuntamento domani sera all'Allianz, oggi alle 14.00 Max Allegri presenterà la sfida nella canonica conferenza stampa e vediamo se darà qualche indicazione sulla probabile formazione. Diciamo che da questo punto di vista non è che ci debbano essere, dietro l'angolo, la sensazione almeno è questa, grossi scossoni perché l'unico dubbio è legato alla convocazione o meno di Timothy Weah che ieri si è allenato nuovamente a parte, quindi ritengo che sia difficile che possa ottenere minuti domani. Però ascolteremo direttamente le parole del tecnico toscano, per il resto mi dicono che Locatelli stia meglio, quindi speriamo e credo possa partire dall'inizio. Danilo sta crescendo a livello fisico e quindi magari mette nel mirino una partenza dal primo minuto. Alessandro ha disposto una buona prova con il Monza, siamo quelli che siamo e con questi bisogna fare la miglior performance possibile contro Napoli che proviene dalla sconfitta netta contro l'Inter, però chi ha visto la gara secondo me può essere d'accordo con me, nel senso davvero i dettagli hanno fatto la differenza, l'Inter è la più forte di tutti, questo lo sappiamo, lo ha dimostrato anche all'Allianz a tratti a livello di personalità, però il miracolo di Sommer su Quara, la traversa di Politano, la gara alle volte davvero si può decidere in base a un centimetro o meno, poi complessivamente sicuramente l'Inter ne aveva di più anche a livello fisico. Stava partita molto molto difficile. Ieri, non so se avete visto le immagini sul canale Instagram della Juventus, però sei ragazzi dell'Under 17, quindi molto giovani, si sono allenati con la prima squadra. E tra questi c'era anche Matteo Lontani, un ragazzo classe 2007, molto talentuoso, e abbiamo visto sui soci della Juve come questi ragazzi si stessero esercitando sulle conclusioni, quindi movimento a eludere la sagoma e poi tiro a incrociare. E Lontani, questo ragazzo, che tra l'altro è molto simpatico proprio a livello d'impatto, perché ha questi riccioloni proprio capigliatura in stile William, insomma è uno che destra simpatia dal minuto meno uno direi, e che magari già avete l'intravisto in qualche partita come raccattapalle, perché Matteo spesso e volentieri lo fa. Comunque, Matteo elude la sagoma e poi con un destra incrociare segna. Cosa succede? Che tutti i ragazzi presenti in quel segmento di campo, che a loro volta poi evidentemente aspettavano il loro turno per effettuare il medesimo esercizio, hanno iniziato ad applaudire e c'erano Moise Ken, che va subito a complimentarsi con lui, Manuel Locatelli, che lo elogia proprio a suon di Decibel, e Fabio Miretti, che è quello un po' più vicino anagraficamente, che lo va ad abbracciare, lo elogia e si mette a ridere. Ecco, questo è il segreto di come funzioni il gruppo. Perché? Sembrano piccoli gesti questi, ma non lo sono, nella maniera più assoluta. Sono gesti importantissimi che servono innanzitutto anche a coccolare i ragazzi che si affacciano alla prima squadra, perché se parliamo di 2007 parliamo di sedicenni, che magari ieri alcuni di questi, anzi ieri magari hanno effettuato la loro prima esperienza con la prima squadra. Cioè passi da fare il loro raccattapalle, a guardarli in televisione, a bramare un loro incontro magari anche stemporaneo alla continassa, quasi fugace, e poi invece ti ritrovi ad essere parte integrante di una sessione che alla fine vieni trattato dei membri dello staff come giusto che sia, come tutti gli altri, quindi devi effettuare determinati movimenti, lavorare bene, comportarti in una certa maniera. Ecco, credo che questi ragazzi di Under 17 ieri abbiano vissuto un sogno. Non c'erano né quelli da Next Gen né quelli di Under 19 perché giocavano. Entrambe le formazioni purtroppo sconfitte, l'Under 19 ha perso in Coppa Italia primavera, mentre la Next Gen è caduta contro la Lucchese, però la classifica è sempre quella che è, in un recupero del girone B del campionato di Serie C. Quindi senza poter usufruire dei ragazzi dell'Under 19 e da Next Gen, Allegra ha deciso di convocare sei ragazzi dell'Under 17 che ben si sono comportati. Io credo che a livello di risultati finora ottenuti da Juventus in questo campionato, per Juventus intendo la prima squadra, davvero sia il gruppo a fare la differenza. Cioè essere tutti uniti e mettere nelle condizioni anche quelli che si affacciano in maniera saltuaria, in prima squadra, di sentirsi in una famiglia, di sentirsi non giudicati, bensì spalleggiati, perché quello con più esperienza sa perfettamente che il 2007 che si allena per la prima volta la Continassa stia vivendo un sogno con determinate emozioni positive sicuramente, che poi possono diventare negative se c'è troppa emozione perché non riesci a esprimere il tuo potenziale e quindi ti ritrovi solamente lì a fare numero. Questo non accade, questo non accade in questa Juventus. Non voglio parlare in passato di mele marce che sono state tagliate e che hanno poi fatto in modo che la Juventus da una cozzaglia di individualità passasse a essere per la stagione 2023-2024 una squadra a tutti gli effetti. Anche se poi è lecito immaginare che da questo punto di vista aver cercato un po' di rinfrescare l'organico, beh spalleggi questa tesi e nemmeno di poco. Ma questo è un gruppo, questo è un gruppo che si aiuta, questo è un gruppo che fa lo scattino in più, il take-all in più, che se un giocatore sbaglia a passare la palla non viene redarguito, ma anzi è quello lì che dovrebbe riceverla, che addirittura si assume la colpa. Cioè stiamo vedendo questi aspetti che hanno cementato un gruppo di lavoro che è diventato a tutti gli effetti poi una squadra con i suoi pregi, con i suoi difetti, li conosciamo a memoria meglio di chiunque altro, non ci devono... Sicuramente oggi leggevo degli editoriali sul gioco o non gioco della Juventus, tutte cose che ben conosciamo, a nessuno deve spiegare in casa nostra come funzionano le cose. Le conosciamo, non ci illudiamo, non vogliamo troppo con la fantasia, non ci specchiamo nei risultati, anche perché questa dovrebbe rappresentare la più pura prassi, questo cammino per il club titolato d'Italia, cosa anche ribadita da Cambiaso, intervistato dal mio grande amico, Jay Jassi Juve, dall'ottimo Leandro, sul canale Twitch della Juventus. Quindi sappiamo perfettamente come funzionano le cose qua. Però è stato bello vedere questi ragazzi ieri fare le loro prime esercitazioni venire elogiati, essere considerati parte integrante del gruppo. E così deve essere. E questo deve essere soprattutto il segreto di questa squadra in questa stagione, perché i limiti sono oggettivi, i limiti da parte di tutti, anche dell'allenatore, del suo staff, ma con questo spirito, con questa abnegazione, con la voglia anche alle volte di gettare il cuore oltre l'ostacolo, si possono sopperire tutte quelle lacune qualitative, ben tenendo presente che soprattutto l'Inter abbia molto di più in certi calciatori, in certi reparti e nell'esperienza di determinati elementi, ma davvero quanto visto ieri è la fotografia fedelissima, non fedele, non fedele, fedelissima di questa squadra. Una squadra, punto. punto.